Viraforst vi augura buona visione di 2M al quadrato. Herzlich willkommen bei 2M al quadrato. In Südtirol gibt es sehr, sehr viele Sagen und Legenden. Die Sagen kommen davon, dass sie gesagt werden. Die Legenden wurden niedergeschrieben und waren dann zum Lesen. Und diese Legenden haben immer etwas mit der christlichen Religion zu tun. Und so auch die Legende, wie es zum Kalterer See kam. Forse non tutti sanno che l'origine del lago di Kaldaro è proprio legata ad una Legenda. Una Legenda che narra che al posto dell'attuale lago sorgeva una città. Una città abitata per lo più da abitanti e da residenti estremamente malvagi. Solo una famiglia si salvava. Una famiglia Pia che abitava sulle sponde del lago di Kaldaro in posizione distanziata. Die Legende, die folge, war hier einst eine mächtige Stadt. Auf ihrer Wanderschaft kam Jesus Christus und Petrus hierher. Am oberen Rand der Stadt fanden sie einen Bauern, der ihnen etwas zu trinken gab. Zu essen hatte er nichts, so arm war er. Daraufhin ging Petrus in die Stadt hinunter und bat etwas zum Essen. La Legenda narra che nella città che sorgeva dove ora si trova lago di Kaldaro arrivò Gesù Cristo accompagnato dal suo discepolo Pietro. Affamati e estremati dal lungo viaggio chiesero ospitalità nell'unica casa abitata da gente che viveva secondo i principi cristiani. Chiesero da bere e da mangiare, ottennero solo della semplice acqua. Allora Pietro scese a valle nella città per chiedere del cibo. Petrus ging von Haus zu Haus, aber die geizigen Menschen gaben ihm nichts zu essen. Da kam er mit leeren Händen wieder zurück. Jesus war darauf sehr erbost, nahm den Wasserkrug und leerte ihn aus. Und just in diesem Moment kamen von unten überall riesige Quellen, ein Wasserschwall und überspülte die Stadt. Und da haben wir heute den Kalterer See. Die Zone wo der Bauer lebte, die gibt es heute noch, die ist da hinter uns und heißt Klughammer. Pietro tornò a mani vuote dalla città. Gesù Cristo si errabbiò non poco capendo che tutto dipendeva dalla malvagità degli abitanti della città. Allora rovesciò la brocca fuori dalla finestra. In quel momento nacque un'onda che allagò tutta la città, l'intera zona. Ed ecco spiegata l'origine del lago di Caldaro. La zona dove viveva la famiglia cristiana si chiama Klughammer e tuttora circonda il lago di Caldaro. Alla prossima con 2M al quadrato. Ci vediamo la prossima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst. Buona perché ha sempre vissuto qui. La prima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst.